E questa qua è la seconda parte dell'animazione che ho fatto sempre con il software d'animazione FlipClip sul tablet. Forse ragazzi ho trovato un modo per condividere su YouTube, perché qua c'è lo YouTube ma sembra che non mi funzioni, e allora dovrò condividere con Bluetooth dal tablet al mio telefono e dopo lo metterò su YouTube, ok? Allora ragazzi, volevo solo dirvi prima di iniziare che ho aggiunto un easter egg proprio all'inizio dell'animazione. Voi dovrete individuarlo e sarà proprio davanti a voi. È un logo molto famoso, quindi dovrete... è una marca di qualcosa... di un robot... accidenti. Poi iniziamo. Foxy ha perso la gamba. Notate qualcosa? Avete visto? Cinque giorni dopo... Porca miseria no! Scusate. Cinque giorni dopo. Dove sono? Che mi è successo? Oh mio Dio, dove l'altra gamba? Oh no, 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 no. Come farò a camminare? L'abbiamo dovuto fare, se non la tagliavo potevi morire. Mi dispiace Foxy, ma era l'ultimo, ma ho dovuto farlo per salvarti. To be continued, grazie per aver visualizzato.